Buongiorno, oggi è sabato 16 dicembre, noi ci siamo già svegliati da un po', abbiamo fatto colazione, Tommy ha fatto la sua merendina, adesso io ho fatto la mia skin care, ho passato la piastra, perché ieri sera ho lavato i capelli ma non li avevo piastrati e tra l'altro stamattina nel calendario dell'avvento di Davide ho trovato il siero per contornocchi di L'Oreal e quindi l'ho anche già subito provato, dove dirmi è piaciuto un sacco, speriamo che utilizzandolo si vedranno dei miglioramenti. Tommy è qui che un po' gioca sul tappetone, un po' va a vedere suo papà che si sta lavando i capelli, quindi apre e chiude di continuo questa porta del bagno, non sta fermo veramente un attimo. e niente, per oggi abbiamo in programma in realtà una giornata di relax, staremo a casa anche perché Davide probabilmente avrà del lavoro da fare, quindi non possiamo uscire e poi stasera vengono i nonni, i genitori di Davide, qui perché è il compleanno del nonno Pietro. Dicembre ne abbiamo un sacco di compleanni e quindi stasera ne approfittiamo, festeggiamo qua, mangiamo una bella pizza. Ciao! 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 Buongiorno! È qualche giorno che non vi parlo, però vi ho lasciato qualche clip così. Devo dire che non sono stata granché in forma in questi giorni, ho avuto una sindrome premestruale veramente impegnativa, però ci sono, oggi risorgo, è il 20 dicembre ed è anche il mio compleanno, ebbene sì. Mi sono già data una sistematina, infatti mi vedete, mi sono già fatta la skin care, truccata, non ho fatto però in tempo a vestirmi, infatti sono ancora in pigiama perché Tommy ha voluto fare il suo riposino, non ho fatto in tempo a vestirmi prima, quindi approfitto e rimango in pigiama, bella comoda, ancora per un pochettino. Speriamo soltanto non ci tofonino perché deve arrivare l'ultimo regalo di Natale che abbiamo ordinato, spero non arrivi proprio adesso. Uno perché mi sveglierebbe Tommy e due perché scendere in pigiama proprio... Tra l'altro Tommy è stato bravissimo oggi perché si è voluto addormentare nel suo lettino da solo e mi ha dato proprio segnali di volersi sdraiare, di non voler stare in braccio. L'ho messo nel lettino, con il suo dudu, la copertina ed è crollato, quindi è nata veramente molto 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 bene perché non capitava da un po' che si addormentasse da solo, quindi top. Abbiamo cominciato a festeggiare già un po' da ieri sera, infatti abbiamo ordinato il cinese, così sono stata tranquilla, ho dovuto cucinare, pulire, ma quando si è ordinato a sporto, top. E appunto abbiamo approfittato e abbiamo preso un cinesino e invece oggi non abbiamo grandi programmi, anche perché Davide lavora, fuori il tempo in realtà è brutto, quindi non posso neanche andare chissà dove e poi semplicemente credo che stasera siamo a cena dai miei. Io sono sempre stata così, non sono mai stata tipo a grandi feste di compleanno, anzi, ma molto semplicemente festeggio sempre a casa con i miei, il mio fratello, Deborah e basta, sto bene così. Quest'anno ovviamente c'è anche Tommy, quindi è un compleanno ancora più speciale del solito. Anche perché è il primo compleanno ufficialmente da mamma, perché l'anno scorso ero incinta, più o meno al quinto o sesto mese, se non sbaglio, e proprio ieri guardavo un po' i ricordi nelle foto, così, e è venuto fuori che l'anno scorso, il 19 dicembre, quindi giorno prima del mio compleanno, avevo fatto la seconda morfologica, perché dovete sapere che l'ho fatta ben due volte. Per questioni varie, tra cui misure prese sbagliate, la prima volta mi hanno fatto entrare e riuscire tre, quattro volte, perché Tommy non si faceva vedere e la dottoressa, vi devo dire, è stata veramente molto irruenta, tant'è che mi ha provocato anche dei dolori, però, che sono andati avanti tra l'altro per un po' e che mi hanno fatto in modo poi di dover fare un'altra visita per approfondire, perché non si capiva come mai avessi quel male lì e poi dopo ho collegato, che era perché lei durante la visita continuava a smucinare piuttosto forte per cercare di farlo girare a tutti i costi, mentre lui non ne voleva sapere. E comunque, appunto, in più mi aveva preso delle misure piuttosto sbagliate, per cui l'ho rifatta poi una seconda volta privatamente. E appunto, la seconda volta che l'ho rifatta era proprio il 19 dicembre e per la prima volta abbiamo anche visto Tommy proprio bene in viso, perché lui era sempre nascosso all'inizio con le manine, sempre davanti al viso, poi quando è cominciato a girarsi era sempre con la faccia rivolta verso l'interno, quindi con l'ecografia ovviamente non riusciamo mai a vederla. Invece il 19 dicembre dell'anno scorso si era fatto proprio ben vedere con le sue guanciottone che lo caratterizzano da sempre. E quindi Tommy ha già fatto un regalo di compleanno l'anno scorso, però ecco quest'anno è proprio il primo compleanno da mamma che è qui con noi, sicuramente diverso, ecco. In più mi emoziona un sacco pensare che tra qualche giorno ci sarà il suo primo Natale, e mi sembra così passato in fretta tutto questo tempo, incredibile, cioè a volte vorrei fermare il tempo, altre volte però sono curiosissima di vederlo crescere, non so, sono sempre molto combattuta su questo, anche perché è cresciuto davvero super super in fretta, cioè a volte lo guardo e non riesco a spiegarmi davvero di quanti progressi facciano in così poco tempo. Anche il fatto stesso che adesso si intrattiene giocando, ma proprio capisce, come dire, interagisce, è bellissimo, cioè se io penso veramente a quante cose imparano in un anno, cioè un anno l'oro è come se fossero dieci anni della nostra vita normale, è incredibile, è proprio incredibile. A questo proposito un'altra valutazione che ho fatto l'altro giorno a cui pensavo è che da una parte mi manca quando era appena appena nato, perché comunque quella cosa di neonato, no, piccolo piccolo, tutto lì da coccolare, fermo, immobile, no, cioè con la tenerezza lì è inspiegabile, però dall'altra non tornerei mai indietro, perché appunto adesso che interagisce, che si fa capire, cioè è bellissimo, secondo me è proprio una fase più bella, divertente, ti riconosce, ride, gioca, è proprio bello, proprio bello. Non so, fatemi sapere voi invece se avete bimbi, anche voi, di qual è stato il momento che avete preferito di più. Oggi è venerdì, sì, venerdì 22 dicembre, raga, io sono sparita anche ieri, ma faccio comunque una sintesi un po' di quelli che sono stati questi giorni, in realtà appunto non abbiamo fatto grandi cose, semplicemente mercoledì è stato il mio compleanno, quindi come avevo già detto siamo stati a casa da mia mamma, con tutta la mia famiglia, e abbiamo festeggiato semplicemente così, nel frattempo io sto caricando un attimo la vostra video, perché ci sono sempre un sacco di cose da fare a casa, non si finisce mai, quindi faccio un attimo questa roba, appunto vi stavo dicendo, abbiamo festeggiato in questo modo, molto semplicemente e tranquillamente. Ieri anche non abbiamo fatto grandi cose, ma sono venuti al pomeriggio i miei suoceri, perché con loro appunto non avevo ancora festeggiato, e quindi sono stati qui a portarmi il regalo, a trovare Tommy, quindi sono stati in attimo insieme al pomeriggio, pomeriggio sera. Ieri invece mattina siamo andati a prendere il regalo di Natale per Tommy, perché era l'unico rimasso senza regalo, perché come avevo accennato in un video, volevo fargli qualcosa quest'anno che gli rimanesse, come ricordo del suo primo Natale, ma non mi veniva in mente assolutamente niente, e quindi alla fine, come è andato a finire, ho detto con Davide, vabbè andiamo a cercare qualcosina, almeno giusto da fargli aprire un pacchettino, così qualche gioco carino, e infatti abbiamo trovato due giochini, ma proprio due stupidaggini, carine, però niente di chissà che cosa, ecco giusto per fargli scartare qualcosa anche da parte nostra, ma arrivati alle casse, avevamo anche già pagato, mi giro, mi cade l'occhio su una cosa, che ho detto no vabbè, troppo carina, bella, a tema, con quello che è un po' il suo tema ricorrente, e mi sono fatta tentare io, ma poi è piaciuta molto anche a Davide, sinceramente, e quindi alla fine ci siamo fatti prendere, e io ho preso anche questa cosa, quindi da che non c'era neanche un regalo, a che ne ha tre, però due, come vi dicevo, sono proprio due sciocchezzuole, questa invece è una roba piuttosto grande, sicuramente che rimane per qualche anno, ecco, però un po' diverso diciamo dal concetto che avevo in mente di fare quella cosa che sarebbe rimasta nel tempo, come regalo del suo primo Natale, ecco, non ci sono riuscita, non mi è venuto in mente niente, pace, amen. adesso appunto, ieri poi il pomeriggio ho incartato tutti i regali, ho finito finalmente, perché basta, mi manca giusto un regalino, per il bimbo di nostri amici, però abbiamo ancora tempo, quindi posso farlo anche dopo Natale, sinceramente, perché in questi giorni sarà un casino, un tour de force continuo, tra fare gli auguri a varie persone, portare regali, cose, quindi me la prenderò abbastanza con calma, però ecco, abbiamo fatto appunto questo, ho finito completamente tutti quanti i regali incartati, tutto, sono arrivati tutti, tra l'altro, momenti un po' di panico, perché due regali che avevo ordinato, avevo pagato anche la consegna per farmi arrivare il giorno dopo, e invece alla fine sono arrivati due o tre giorni dopo, per fortuna siamo ancora in tempissimo, però, ecco, mi ero portata avanti con quella con spagandolo, quando quella consegna lì, perché altrimenti c'era scritto che non sarebbero arrivati per Natale, alla fine mi sono fatto fare rimborso, perché comunque ci hanno messo tre giorni per arrivare, io ho pagato tipo quasi 15 euro per farmi arrivare il giorno dopo, non mi sembrava giusto perdere i soldi così, ma con le spedizioni è sempre un casino comunque, se devo essere sincera, ma non è giusta uno, e le volte in cui magari arriverebbero anche in fretta i pacchi, è proprio il corriere che non consegna, che dice che magari non ero a casa, quando io mi sono passata tutta la giornata in casa apposta, perché sapevo di dover ritirare un pacco, ma vabbè, che poi voi direte perché allora a questo punto non vai in negozio ad acquistare, avete anche ragione voi, però alcune cose, a parte che non ci sono, cioè alcune cose che ho comprato online, proprio perché sono di cose specifiche dell'online, e altre volte con un mio piccolo, è una comodità comunque. Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, buona vigilia a tutti, mi sono ritagliata un attimo di tempo per salutarvi e farvi gli auguri, mentre Tommy sta cercando di fare le ninne con Davide, io appunto ne approfitto per parlarvi un secondino, è già pomeriggio, e stasera alla fine, non so se ve l'avevo già accennato, ma saremo tutti quanti qua insieme, quindi abbiamo già sistemato e pulito tutta casa, e adesso mi rimane poi da finire di preparare qualcosa da mangiare, anche se devo dire che il grosso l'ha fatto mamma, perché ha fatto lei la lasagna, il secondo, il contorno, io devo soltanto fare gli antipastini, ma sono cose abbastanza veloci direi, e poi devo preparare le patate al forno, quindi abbastanza tutto semplice, e preparare poi la tavola. Mi sono già portata avanti con i tovaglioli, perché li ho voluti fare a forma di alberello, non mi sono venuti granché bene, una volta ero più brava, ma non riuscivo a prendere la manualità stavolta, però comunque sono venuti, quindi secondo me sono carini, ho da impreziosire un po' la tavola, che comunque sarà molto molto semplice, perché non ho grandi cose natalizie, sinceramente ancora, quindi poi avrei voluto mettere un bel centrotavola, ma non so a casa vostra, a casa nostra il centrotavola dura veramente pochissimo, perché poi riempiamo la tavola di roba da mangiare, e quindi quello occupa soltanto spazio, e viene sempre subito tolto, quindi ho pensato fosse inutile andare a comprare dei fiori, qualcosa da mettere al centro della tavola apposta, che poi non sarebbe durato niente, quindi sto cercando qualche scamotage, così per impreziosire un po' il tavolo, devo dire che comunque i tovaglioli a forma di alberello, non sono malissimo. Io mi sono già data una sistemata, perché comunque anche se staremo a casa e in famiglia, volevo essere un pochettino più carina, Tommy adesso fa la nanna, quando si sveglia farà la merenda, poi facciamo il bagnetto e vestirò anche lui. Io non ho ancora veramente idea di che cosa mettermi, sinceramente, per lui invece ho già l'outfit pronto, che mi hanno mandato il Mizi dalla Scozia, e infatti avrà il body scozzese, con il pantaloncino abbinato, che ha anche le bretelle, proprio carino da ometto, e domani ha un completo simile, che mi hanno mandato sempre gli altri miei zii, sempre dalla Scozia, perché la camicia e il body sono a fantasia scozzese, quindi sostra mettiamo il body, che ha il suo pantalone, e domani invece metteremo la camicia, che è anche quella con il suo pantalone, però appunto a tema un po' scozzese, ma allo stesso tempo molto natalizio. Ecco qui quelli che appunto ho cominciato a fare, dai non sono male in mano, dai qui vi faccio vedere come li metterò anche a tavola. Allora la tavola è quasi pronta, ovviamente man mano aggiungeremo tutte le varie cosine, però ecco vedete gli alberelli sono carini, danno un tocco di natalizio, ecco tutto rosso. Non ho dimenticato le posate, sono qui e adesso le mettiamo. Qui invece c'è l'alberello di mozzarella, che devo andare qui a spennellare, e diciamo a impreziosire un pochettino, con dell'origano e con questo che invece è il rosmarino, che c'è Tommy. E poi qui ho fatto una stella di Jussel, perché era avanzata la pasta di pizza, non sapevo come farla, avevo dei Jussel e quindi ce l'ho messa dentro via. Ho provato a fare una stella un po' stortina, però dai vediamo quando poi cotta, come sarà il risultato. E poi qui ho le varie chutney, diciamo creme, per andare a fare i tramezzini, che però faccio proprio all'ultimo. E poi andiamo. Grazie a tutti.